Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Supplica a Santa Brigida di Svezia, compatrona d'Europa. Con cuori confidenti a te ci rivolgiamo, beata Brigida, per domandare in questi tempi di oscurità e di miscredenza alla tua intercessione in favore di quelli che sono separati dalla Chiesa di Gesù Cristo. Per la chiara cognizione che tu avresti dei crudeli padimenti del nostro Crucifisso Salvatore, prezzo della nostra redenzione, ti supplichiamo di ottenere la grazia della fede a coloro che sono fuori dall'unico vile, così che le disperse pecorelle possano ritornare all'unico vero pastore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Brigida, intrepida nel servizio di Dio, prega per noi. Santa Brigida, paziente nelle sofferenze e nelle umiliazioni, prega per noi. Santa Brigida, mirabile nell'amore verso Gesù e Maria, prega per noi. Santa Brigida, mirabile nell'amore verso Gesù e Maria, prega per noi. Al termine poi si recita il Padre nostro, l'Ave Maria e gloria al Padre. Santa Brigida, Mattia. Sì, assi servizio di P Thursday, sullo Mo'at massima. Sì... Ma altra parte istrambI Sì ho serviziato al Padre,